La tana del frerito Oh 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 Ciao prederigno Oh sei già a Surri? E siamo benvenuto a Surri! Oddio cazzo! Surri! Signori buonasera Io ero collegato da circa 5 minuti Mi avete già fatto passare un po' Che se sei collegato da 20 minuti? Ma ti mando il link mo No 5, 5 minuti ero lì che ascoltavo la live Ah stavi ascoltando i nostri discorsi sui cugini Sì ho provato a scrivere ma Mi dice che devo essere follower da più di 10 minuti Veramente? Ho questa impostazione su Twitch? Scusate sì Vabbè fatto sta non Sì buonasera Buonasera Surri È un piacere conosci Ciao bro È veramente un piacere Lui già lo conosci vero? Sì sì Ti sta sul cazzo? No perché Me ne andavo Allora Surri io parto innanzitutto Parto innanzitutto a chiedere di quali vi ho all'inchat Perché io sono veramente contento di vivere qua Surri Per me è un grandissimo l'ora L'ho detto anche in inizio live Siamo un po' ubriachi Aia Non è una buona pausa Come stai bro? Bene Grazie Voi ubriachi Sì sono sbronzato Bro in realtà non siamo così tanto sbronzati Siamo andati al sushi Abbiamo bevuto due bicchieri di vino E non so perché è salita molto più del previsto No ma assurdo Sì abbiamo cominciato a ridere come dei deficienti Lui mi ha spudato il sushi in faccia Un disastro Veramente Sono le cene quelle belle Sono le cene quelle belle Tu vivi a Milano tra l'altro? Sì Ma sai che abbiamo pensato mentre stavamo andando al sushi fa? E lui mi fa Perché lui ha detto C'è sul re-live Ma lui viveva a Milano Ah viveva a Milano? No io gli ho detto Ma viene di persona? Ah è vero? E lui ha detto no Perché non pensavo vivessi a Milano E lui ha detto Cazzo passiamola a prendere Magari viene qua direttamente a fare la live Ti faccio una domanda Per capire se mi devo pentire Cioè se devo tipo dire Cazzo avrei dovuto farlo Se ti avessi detto Ti passo a prendere Vieni qua a farla live Saresti venuto? No Sì Ci stavo Però lui ha detto Shalla non l'ho mai visto Capito? Eh mi prendevo male Magari tu ti prendevi male Non lo so Ti disturbava troppo A fine da casa è più comfort Sì E no Cioè non cambia molto in realtà Però Un prossimo Voleva venire Era più figo Eravamo un 4-3-3 insieme Sì era meglio È vero Magari facciamo qualcosa Ma magari dopo Ma magari Viene di strano Allora su Ti faccio Partiamo tagliando la testa al toro Tu mi conosci? No Non ci siamo mai incontrati Dal giorno Perché sei particolarmente alto Quando mi conosciuto È altissimo Ok Quindi questa è l'unica cosa Che so di te Sury tu mi hai visto Ok Vai alzati Prego Sì Vabbè più o meno Siamo uguali Sì Super giù Sì Minchia Cosa sei? Due metri? Figa No Sono un metro e novanta Facca la tiva esclusa Sono Ok Un metro e novanta E Ti hai parlato bene Di me o male Di verità Non dire chi ti ha parlato di cosa Ma dire se ti ha parlato bene o male Complessivamente bene Come persona A molti non piace Quello che faccio I content Ok Ma quello ci sta Ma quello Posso capire che Ma sì No ma ci sta che uno possa dire Guarda non mi piace quello che fai Perché ogni tanto effettivamente Magari faccio di con tutti Per esempio mi capita un sacco di Perché la gente la spamma a F Ma che cazzo di problemi avete? F cosa? Ma come la tua chat Perché ogni chat di Twitch è diversa Allora la mia chat di Twitch Parlami un po' della tua chat Allora la mia chat Come se fosse la tua ragazza Come se fosse la tua ragazza Allora La mia chat di Twitch È molto molto bella E più che altro Alla mia chat di Twitch Sta simpatico Chi sta simpatico a me Cioè se la mia chat di Twitch Percepisce che a me una persona Mi sta simpatica Automaticamente Gli vogliono bene Se invece percepiscono Che magari è una persona Vedono che mi sta un po' sul cazzo Automaticamente Automaticamente Ti difendono La chat è un po' sottona quindi Detto lui eh No eh sto Non conosco Io sono questo ospite Indirettamente Cioè più che altro vabbè Se vedono che una persona A me sta sul cazzo Seguono l'onda capito? Seguono un po' l'onda Ci sono un po' dei peccoroni eh Beh eh peccoroni Tranne Jody dicono Tranne Jody No Jody vabbè lo insultano sempre Adesso è diventato un meme Insultare Jody È un meme Tu lo conosci Jody? Sì l'ho conosciuto Quando facevo ancora parte Dei gay pants Esatto Abbiamo fatto un paio di cose insieme Ma oh ragazzo Lui è uno di quelli che Cioè Ha il futuro da showman Perché sa fare tante cose Assolutamente Sono d'accordo con te Mi vorrei fumare la seconda Icos Me la brucio La sfrutti ora? Ma lo sai che anche io Vorrei fura meggiare la seconda Icos Il problema è che poi è grave Eh proprio Le sigarette Non le fumo io Eh io sì Le fumo io Vieni Allora Surry Quello che volevo chiedere Allora a parte una cosa È vero che non vibra sta roba Tu allora hai iniziato Io Ti seguivo Non tanto Ti dico la verità Non voglio stare qua a dire Ti segui un bot eccetera Perché io Youtube quando Noi siamo di età diverse Tu cos'è che c'hai Sì un 95 25 96 96 Ok quindi 25 anni Siamo più o meno Più che io 21 anni Quasi 21 anni E diciamo che Tu hai fatto parte Della Youtube Quella di Dei Mates Quella dove c'era Favij Dei Games Week 2000 e Queens Tutte le robe no Varie Dove Youtube era proprio Al top E ti faccio una domanda subito Secondo te in questo momento Cioè Come è cambiato Bella Cioè io mi ricordo Quando ero piccolino No adesso io sono 21 anni Quindi non faccio più parte Dei ragazzini di 15 14 che Hanno i loro idoli No Che ai miei tempi Gli idoli Erano Favij Ciccio Gamer I Mates Tyler Strikes Non lo so Comunque Quelle persone lì Che erano tutti Youtuber C'era la roba Degli Youtuber Ci sono gli Youtuber Il nuovo lavoro Di Youtuber Secondo te adesso Nel 2022 Chi sono gli idoli Dei ragazzini Ah buona domanda Penso dipende tantissimo Dall'individuo Ovviamente Ok In che senso Maschio femmine Vabbè Dipende ovviamente Dipende ovviamente Dall'individuo Dagli interessi che ha E così via Molto probabile Che ora come ora TikTok Che ha Diciamo una fetta Di mercato Quasi Diciamo assoluta Probabile che gli idoli Siano Non lo so TikToker Però vi posso dire Una cosa A favore di Youtube Che ho notato Anche proprio a livello Di business Di affari Di soldi Youtube Da quando c'è TikTok Ha preso Una marea Di credibilità Ma proprio Una marea Di credibilità C'è gente Ci sono aziende Che a volte Mi chiedono Di fare TikTok Però io TikTok Cioè Faccio il buco Ma ogni tanto T'ho visto Che hai per te A fare qualche Qualche porcata Io l'ho visto Sì 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 Ma giustamente Sono Sono boomer Devo Devo rispettare i canali Però comunque Mantiene il personaggio Oppure su Twitch Su TikTok Nell'ottica Dei social Sì Io su TikTok Sono super a disagio Cioè Non riesco a fare Le cose Che fanno tutti Su TikTok Perché non sei Quello Vabbè ma nemmeno io Posso fare quella roba lì Cioè magari quella roba lì La parlele Capito Vero Ma non è un insulto bro Vabbè è ovvio Che io non faccio Quello che fai tu Però è vero Ma come tu non fai Quello che faccio io Sono due mondi diversi Vabbè certo Io non riesco a mettermi lì A fare il TikTok In cui Faccio il figo Ma non è un Non è un disvalore Ma perché In quel TikTok Ho fatto il figo Vabbè bro Dai fai il figo Nei TikTok Fai un po' il belloccione Dai Un pochino sì Vabbè sì Ma non è un insulto eh No lo so che non è un insulto È solo che È un modo di vedere le cose Secondo me Ok qual è il tuo modo Di vedere le cose Il tuo è che a te Sembra che io faccio il figo Magari il mio può essere Che Sono semplicemente me stesso Vabbè è un figo quindi Bro Poi quello è soggettivo Vabbè ok Sei un bel ragazzo E quindi ti fai vedere Per quello che sei Ok certo Però magari C'ho altre mille Io non posso Mettermi a fare il figo Su TikTok Ma magari Se tu credi in te stesso Dai credibilità A quello che fai Surry O che ne pensi Ciao E Allora Non ne ho idea Non ne ho idea Allora io sono dell'opinione Che Twitch No non Twitch TikTok TikTok ha delle grandi Grandi potenzialità Perché una cosa che adoro Di TikTok È l'algoritmo Se tu passi 20 minuti su TikTok Sei sicuro che Dopo un po' Che scrolli Troverai solo cose Che ti piacciono Quindi è un social Che riesce a Capirti In qualche modo Che sia una cosa bella Che una cosa un po' di c Ma non lo so Fatto sta Che complessivamente Come social È un social Che punta Tanto Perlomeno puntava Magari un annetto fa Un annetto e mezzo fa Sull'estetica Diciamo che l'estetica Fa davvero tanto Su TikTok È solo recentemente Che magari Come cabi Facendo video comici Questo sta Cavalcando l'onda Prima invece era Come si chiama Charlie D'Amiglio Che faceva Il TikTok In cui voleva la testa E quindi Sì Diciamo che Fino a un certo punto Sono d'accordo Un po' Un TikTok Ma come io faccio i video Per pomparmi L'autostima L'ego E tutto il resto Anche su TikTok Si fa lo stesso modo Certo Allora ti chiedo Questo che mi hai detto Che su TikTok Alla fine che è vero Che l'algoritmo di TikTok Funziona Che in base a quanto Non so poi come funzioni Proprio in pratica Ma in base a quello Che scrolli Quanto guardi una cosa Ti creai per te Che sono effettivamente Per te I contenuti che ti piace Per esempio io Ogni volta che scopo C'ho solo live di Twitch Robbe di Anch'io pieno di clip Apri tu TikTok E scorri Voglio vedere Così capisco già Cosa ti piace Micà sono fighe Sono fighe Allora Sì Ci sono belle ragazze Ci sono animali Ci sono clip di Twitch di YouTube E tantissimi meme su Ciccio Anch'io Abbiamo gli stessi per te Pieno Identici Ti capitano anche a te Tipo i I cosi di mindset Tipo quella musichetta Ah sì 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 Panetti è fisso Nei me per te Con la musichetta Con le scritte Vi posso dire Un pensiero mio Che c'ho su TikTok In confronto a Tipo YouTube O Twitch Su TikTok È vero Io confermo che su TikTok La gente ti segue Per l'estetica Perché spiegami Come in 15 secondi Qualcuno può affezionarsi Alla tua persona Su un video De 10-15 minuti Su una live di Twitch Di 3 ore Conoscono il vero te Certo Sì è molto Senza filtri Letteralmente Tra l'altro Su TikTok Ci sono filtri a manetta Su Twitch Vedi la persona Vedi il modo In cui si interfaccia Con le altre persone Il modo in cui Risponde con la chat Cioè rispetto Anche a YouTube È molto meno Costruito Twitch Quindi si crea Un legame Molto più forte Se uno dovessi Fare una classifica È Twitch YouTube TikTok Instagram E poi TikTok A livello di utilizzazione Sì a livello di utilizzazione Sì sì è vero È vero Ma infatti La maggior parte Della gente mi segue Su TikTok Non sa che voce ho È vero Può essere Eh sì ma perché è chiaro TikTok uno scrolla Vede il video Del balletto figo Che dice Cazzo figo sto video Like Scorre Magari manco ti segue Capito Cioè è difficile Che uno guardi Un video su YouTube Intero Gli piace E magari manco Si iscriva al canale Facile che dice Ah figo sto qua Mi iscrivo Cioè invece TikTok Sai su un 15 secondi Della tua vita Che non è che poi Vanno a A poccarti In un modo o nell'altro E poi su TikTok Non c'è manco la sub Sì certo Capito Quindi su Twitch Cioè la gente si sub Hai la conferma Della gente Che davvero Ti sta seguendo Per seguirti Ecco cosa ne pensate Che voi sicuramente Vivete TikTok Più di me Del fatto che abbiano Aggiunto le storie Non so neanche Che cazzo siano Io non le ho ancora Te l'ho giusto Io l'ho aperto TikTok E ce l'avevo Io guarda TikTok Non sono come te Però Sono boomer anche io su TikTok No davvero No bro Facevi TikTok Ma facevi TikTok comici Che io Non so neanche Li montavo io Guarda E' il mio profilo Io non ho le storie Non metterà mai a fuoco Sì 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 Stai vicino e metto a fuoco Vabbè la camera No vabbè non metto a fuoco Vabbè è impossibile Ok vedi Non c'ho il più Ok Non ho il più Vabbè no ma Più che Più che quello Cioè mi interessava proprio L'idea di Mettere le storie su TikTok Che senso ha Io penso che una delle forze Di TikTok Non credo che lo userò mai Eh capito Che senso ha Fai un TikTok Che almeno rimane Dopo 24 ore Può fare ancora views Può portare ancora iscritti Non avrebbe senso Utilizzare le storie Però vabbè No ma infatti Ma tanto io avevo letto Una notizia che volevano Aggiungere i video Da dieci minuti su TikTok Li hanno aggiunti Ci sono Ci sono Io se vado su TikTok Posso caricare i video Da dieci minuti Sì sì Dieci minuti Secondo te sta roba Ha senso? Secondo me non ha un cazzo Di senso Secondo me no Stanno facendo l'errore Che ha fatto E che fa Facebook Che vogliono diventare Un social Che ha all'interno tutto Tutto Esatto Sono d'accordo con te Che è un super errore Secondo me Poi oh Comunque Va forte Quindi per me è un errore Ma effettivamente Ci sarà dietro Una decisione sensata Non è questione Non è questione Non originalità No ma Secondo me è invece Proprio anche un errore A livello di marketing Perché nel momento in cui Su Twitch Si aggiungesse la possibilità Di caricare i video Cioè Cosa vogliono fare Competizione a YouTube Sì ok Una roba in più Però non ha senso Capito A livello di Cioè uno pensa Sta cosa E dice ok Su Twitch hanno aggiunto La possibilità Di caricare i video Ok Che senso ha Cioè più che altro Se uno vuole andare Caricare un video Cioè va su YouTube Certo Capito È inutile che Perché è un po' Il canone Vabbè là che pensi Dell'Instagram TV Dell'EGTV Anche lì È stato un fallimento Superflop Superflop Ma è tipo Google Plus Esatto È stato un fallimento Io L'unica cosa Che secondo me A livello di piattaforme Potrebbe essere Un'idea intelligente Secondo me Magari mi sbaglierò Ma se YouTube Avviasse Un'ottima campagna Di Realizzazione di live Cioè creasse una bella sezione Per le live Ma fatta bene Non come adesso Che c'è YouTube Gaming Che ha fatto un po' a culo Ma se facesse una bella sezione Del live Secondo me potrebbe fare Concorrenza a Twitch Secondo me no Per un semplice motivo Su YouTube Non c'è il Prime No ok Che comunque rappresenta Un grande introito Ma aggiungendo magari Aggiungendo una roba Una roba del genere Tipo quella Tipo quella Tipo capito Però è difficile Si è buona Netflix Con YouTube Netflix e YouTube Però non potranno Cioè io ad esempio Su YouTube Ho il Premium Pago tipo 10 euro al mese E non vedo pubblicità Da nessuna parte Però non Cioè non avrebbe senso Che poi io con quel Premium Mi iscrivo Beh oddio Potrebbe anche avere senso Che io con quel Premium Mi iscrivo una volta al mese Gratis a un canale Su YouTube Allora Tantissimo pubblico Su TikTok E non è riuscito A convertirlo Sulle altre piattaforme C'è gente C'è gente che bro Che c'ha 3-4 milioni Su TikTok Capito Cioè c'è cazzo Cioè c'erano tutti 100 milioni Cioè l'importanza Del followers Su TikTok Su YouTube È proprio Completamente Su Twitch Non ne parliamo È proprio completamente Diversa Capito Cioè TikTok Ti va un TikTok Virale In cui magari Manco c'è la tua faccia Tra poco Magari ti fai 20 mila follower Esatto Magari ti fai 20 mila follower E poi in realtà Non vale Non vale un cazzo Quella roba E infatti È una roba Che mi sono sempre chiesto A livello proprio di brand No Io vabbè Non ho mai lavorato Con TikTok A livello di brand Non ho mai fatto Uno sponsor su TikTok Tu magari ne sai di più Quindi mi potrei dire Tu Surry Non so se hai mai fatto Sponsor su TikTok Sì Ok Stranamente Però sì Mi sono sempre chiesto Cioè le TikTok Fanno 10 mila views No ma Il discorso è che 10 mila like Se io faccio uno sponsor su Twitch Io si sa Nelle mie live In linea di massima Faccio dai 10 mila Ai 20 mila 25 mila spettatori In range Più o meno Ok E quelli li faccio Che io Che io poi ci inserisca uno sponsor Che io non ci inserisca uno sponsor Quegli spettatori li faccio Che io adesso dico Comprate McDonald's Comprate questo Quegli spettatori li faccio Quindi Quelle persone li ascoltano Quello che ho da dire E eccetera Su TikTok Magari uno fa 300k 300k 200k Poi fa il video sponsor E ne fa 10 mila Ahà Io mi sono sempre chiesto Vuol dire che Gli sponsor su TikTok Forse Non sono così Profiqui per le aziende Allora qui Andiamo Secondo me Nell'ottica aziendale Eh sì 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 Ma stiamo parlando di quello Che allo stesso tempo Attualmente Secondo me I brand Non cercano più I numeri E che cazzo cercano? L'immagine Quello che tu racconti Quello che tu racconti Quello che tu sei Secondo me Vabbè dipende tanto dall'azienda Ovviamente Ovviamente Ci sono aziende Che puntano tanto sul brand awareness Quindi sull'immagine globale Che ha il brand Quindi si associano magari A certi influencer Che rappresentano alcune categorie Tipo se fai il travel vlogger È probabile che arrivi Non lo so Airbnb E ti dica Ti do il codice RFA Se mi fai questa roba qui Ti do questa fee al mese Per andare a viaggiare Di qua di là Perché Allora rappresenta Una certa immagine Però Moltissimi brand Invece Vogliono La conversione Quindi Un brand che vuole La conversione Magari Non Non spende Non lo so Mezzo milione Per prendere Un 10 15 influencer Su TikTok Magari Spaga la pubblicità Per una settimana Che ti compare Tra un TikTok E l'altro Oppure spende Non so quanto costa Quella che ti compare Che ora c'è Lui Vittono Ho visto Che ti compare Quando apri l'app Se vuoi convertire Fai un lavoro Di quel tipo Però per convertire Cioè Per convertire Nel marketing Devi colpire Su più fronti Devi fare un botto Di lavoro Non è che Con un influencer Mi vendi la roba Faccio una domanda Surry Dimmi una Tipo una La tua La tua massima passione Cioè Cosa è Qual è la tua Cos'è che fai durante il giorno Qual è il tuo impiego La roba su cui stai puntando In questo momento Bella domanda Non lo so Diverse Diverse cose Diverse progetti Streetwear No ma dimmi una roba Che non c'entra Una roba tipo Non so Streetwear Una roba Cripto Qualcosa No Non saprei Non saprei cosa dirti Il cibo Mi piace il cibo Ok il cibo Va bene facciamo il cibo Apri un ristorante Ok Sì Apri un brand Di ristorante Io lo dico Apri un ristorante Ok E decidi Visto che comunque Sei anche nel mondo del web Decidi Ok Voglio fare un placement Di questo ristorante A chi ti rivolgi Come lo svolgeresti Un placement Per cercare di Dare pubblicità Alla tua attività Che sia un ristorante O in generale Ok Allora Sicuramente Da capire Se L'influencer È il Come dire La via migliore Per promuovere un'attività Ci vuole Cioè Ci vuole Un mix di cose Devi avere Tutto In regola Ma non Non solo a livello Proprio legislativo Cioè Devi avere Develle arredo Devi avere dei camerieri Che sanno fare il proprio lavoro La cucina deve essere buona Magari le affissioni Per strada E poi Pensare a Anche solo i bigliettini Poi dipende anche dal livello Del ristorante Perché se un ristorante In un certo livello Tipo Gourmet Allora Ci deve essere un tipo di approccio Se una roba un po' più così Diciamo Spartana Puoi anche fare Chiariglia Marketing E vai in giro Non lo so Con 800 panini E vai in giro E regali i panini alla gente E dici Guarda Il mio ristorante da lì Questo è il panino Tu lo regalo Torna al 10% Di sconto Quindi ci sono tantissime cose Che si possono fare L'influencer Come si diceva prima È una roba che Più si va avanti Più diventa Tanto 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 Immagine Più che conversione Io Aspetterei di essere Già a un certo livello Con la mia attività Prima di fare Una campagna influencer Ci sta Assolutamente Assolutamente Sono d'accordissimo Ti volevo chiedere Questa qua è una domanda Molto generale Però secondo me Tu puoi essere una persona Che può darmi una risposta Allora Tu comunque Non è che posso dire Sei uno dei primi Che hai iniziato con YouTube Ma Cosa? Cosa è successo? Ho già disorri doppio Ma non è vero Eh però Hai detto due persone Due persone su 15.000 Minchia No Ma non è Lo scrivono sempre Magari si tira un po' Di Diego Ma non credo Ok Perché c'è il microfono Che rientra nelle casse Va bene Però secondo me Non si usa l'interruzione No ma se non c'è Un pochiamo un tanto Ci baciamo? No Ok Dopo 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 Dormi Ok Allora la domanda Che volevo farti è Allora Tu comunque Sei stato uno di quelli Che Ha cominciato a Cioè hai fatto parte Di quella categoria Di persone Che hanno fatto cominciare A A Far pensare Anche ai più grandi Di e a tutti In generale Che youtube In generale Il mondo del web Potesse essere un lavoro Sì Ok Sì Perché quando ero più piccolo Anch'io Parlavo anche con i genitori Ma quella roba Non è un lavoro C'era proprio la roba Nello youtuber Non è un lavoro Che c'erano tutti i video Che c'erano nome Tutto è lavoro E tutta quella roba lì E E la roba Che io penso Tutto ora E che Secondo me È anche abbastanza Giusto Pensare È il fatto che Il lavoro che facciamo Quello che fai tu Come quello che faccio io Come quello che fa anche Lele Come quello che fanno tutti quelli Che fanno questo lavoro qua È che Non abbiamo un contratto Ok Abbiamo contratti Ok Però non abbiamo un contratto A livello Stipendiario Ok Cioè noi non lavoriamo In un'azienda È un'attività È un'attività È un'impresa E ogni mese In base a quanti lavori Quante cose facciamo Abbiamo un introito Ok Sì Perché comunque siamo in hype La gente ci conosce Ci guarda Gli piace quello che facciamo Le aziende si interessano Perché Noi comunque abbiamo dei numeri La domanda è Questo lavoro Perché quando parlo con i miei genitori Mi dicono Ok ma questa roba qua Quanto durerà Due Tre anni Quattro anni Tu ormai è un po' di anni Che ci sei in questo mondo E immagino che Io adesso non voglio chiederti Se tuttora Guadagni di più Rispetto a quando eri I mates Capito Games week Tutto al top Non voglio Ma guarda Non ti Ma guarda Finisci la domanda Ok Il discorso è Secondo te Questo lavoro Ha una fine Come si fa a non far finire Questo lavoro Cioè bisogna avere capacità Di rinnovarsi Bisogna saper Arrivare ad altro Io per esempio La mia idea era sempre stata quella di Faccio questo finché va Poi a un certo punto Divento manager Cioè prendo io i talent E divento quello che ero io prima Ok Questa era sempre stata la mia idea Alla base Qual è il tuo approccio A fare in modo che questo lavoro Non finisca mai? Allora Domanda sicuramente interessante Io faccio youtube Da quando ho 13 anni Quindi ora sono 12 anni Che faccio youtube Come lavoro in realtà Saranno 7-8 Che posso chiamarlo Un vero e proprio lavoro Con tutte le cose del caso Come si fa? Beh diciamo che rinnovarsi È sicuramente Il punto Il punto cardine Io non è che Abbia Cercato Di rinnovarmi È successo e basta Perché Cioè da sempre Quello che ho fatto È stato Portare Quello che faccio Nella mia quotidianità Poi su youtube Eh perché poi ci rivolgiamo Anche di età Cioè quindi In base a quanto cresciamo Facciamo quello che ci caratterizza Esatto Esatto E la cosa divertente È che io quando ho iniziato youtube Io non ho iniziato con i videogiochi Ho iniziato con minecraft Io il mio primo anno di youtube L'ho passato a fare tutorial Di programmazione Quindi immagina Sto ragazzino Un coso in C? No C++ PHP HTML È roba più orientato Lato web E Immagina sto ragazzino Di 13 anni Io c'ho ancora I video privati Da qualche parte Mi sono perso l'account Infatti ogni volta Per fare il login Devo cercare 8000 email Password Però ci sono i video Di me a 13 anni Che faccio i tutorial C'è un problema Nei siti web E nel primo anno Raccolto tipo 2000 iscritti Che all'epoca Comunque erano tanti Ero il secondo in Italia Che parlava di programmazione Poi una certa Mi sono rotto il caso Di programmare Di programmare Cioè sempre Tra molte virgolette Ovviamente E Avevo conosciuto Tramite un video Su Youtube Capobastone Che faceva Le sue missioni Su Minecraft Sì Brunz Sente da anni Sì Davvero Grande Con le case di fango e merda E mi è venuta voglia Di installare Minecraft E quindi Ho iniziato a giocare A Minecraft E le conseguenze Ho iniziato a fare Video su Minecraft Poi Mix di cose Arrivano i mates Iniziamo a viaggiare Facciamo video Sul viaggio Quindi è sempre stato Un raccontare Diciamo Un po' la mia evoluzione Come essere umano In qualche modo E da due anni A questa parte Da poco prima del covid Mi sono proprio rotto Il cazzo di giocare Che ora ho creato Cioè non l'ho creato Però mi sono ritrovato Con una specie di avversione Al videogioco Avendolo fatto per dieci anni Che è il sogno È il sogno di tutti i ragazzini No? Ti svegli Quello che devi fare È giocare E guadagni E guadagni tanto Per giocare Però una certa Mi sono svegliato Io Minecraft Col cazzo Quello apro Ma io immagino Crescendo in generale Tutto quello che fai Troppo 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 Ti stanca Eh sì Vai in burnout Vai in burnout Infatti un consiglio Che io do A tutti i miei amici streamer È ragazzi Prendetevi delle vacanze Perché Cioè Rispetto a YouTube YouTube io posso Prepararmi video E andare via Tre mesi E nessuno saprebbe Che sono via Se non caricassi Le storie su Instagram Perché io mi preparo Mi preparo I video E poi li metto In schedule E escono da soli Su Twitch Devi essere sempre costante Devi essere sempre attivo Cioè Oseguo Comunque Molti miei amici Diciamo Dalla vecchia guardia Tutto Oggi Fanno Twitch E mi fa un po' Sorridere Quando vedo Che magari Mettono le storie Su Instagram Prima ho detto Riferisci Tra la tua chat Come se fosse la tua ragazza Perché l'ho detto Perché Abbiamo visto la storia Uno che era a cena E fa Sono a cena fuori Ci sentiamo dopo Se riesco Riferito Alla chat di Twitch Come se fosse una ragazza Sono fuori Con i miei amici Poi ci sentiamo Appena finisco E quindi Sai che hai detto Una cosa verissima Anch'io spesso Mi rivolgo Dalla chat Tipo Raga arrivo Ci sono Sto arrivando Che ci sta Perché come diciamo Prima È in cima Alla classifica Della Diciamo Della fidelizzazione E del rapporto Che si crea Tra chi guarda E chi produce contenuti Però è anche vero Che Se poi vai in burnout È un po' una merda E quindi È giusto Prendersi delle pause È giusto Prendersi dei momenti Per fare Delle cose Che non vanno Sui social E tutte queste cose qui Io ve lo faccio Da tanti anni Dico Prendetevi un attimino Un momento per voi Un weekend Andatelo a fare A qualche parte Non producete contenuti Perché A lungo termine Serve Sì Sono d'accordo Sono loro con te E te mi è capitato Di avere proprio una roba Te mi è capitato Proprio di dire Perché stepp Mi va Ma perché a te Mi è capitato Di dire Fanculo Sto mondo del web Voglio Laurearmi E fare Ok L'impiegato La stai fa troppo Ma in realtà Di dire proprio Mollo le live di Twitch No Ma io Tutora io Mi piace Non firmere per un mese L'hai detto? No Ma sai che io A volte io Anche quando non stream Mi pento Aspetta che mi sta chiamando Un numero sconosciuto Sarà uno che mi ha scammato Il numero Pronto Pronto Dai ciao Sì Va bene Ciao No In realtà Non mi è mai capitato Di Di dire Smetto Perché tuttora Meglio Però dipende Come uno vive Questa cosa Di intento in generale Perché se uno La vede come un lavoro Allora Come un lavoro Nel senso come un peso È giusto È giusto che a una certa Uno si rompa il cazzo Certo Se invece uno Lo fa sempre con Cioè Ad esempio Se domani Per un qualche motivo Mi trovassi con tutti i soldi Del mondo E dici Ah cazzo Non ho più bisogno Di lavorare Io comunque Continuerò a fare i video Ok Sai volevo chiedertelo Volevo chiederti Sì Ci sono I miei colleghi Che invece Dicono Ah sì Ora Cioè se a te Facessero un bonifico Ti facessero un bonifico Da 100 milioni di euro Tu Se hai dei video Delle robe che vuoi fare Delle robe che vuoi caricare Dei progetti che vuoi fare Sì Spendere per fare i video Probabilmente Ma quello Probabilmente è in chiaro Sai Cioè nel senso Non piscele del tutto No 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 Non è che io Se ho 100 milioni Smetto di fare le live Capito Sì anche perché Ciao brother Addio Ci vediamo Ci vediamo alle Maldive In un hotel a 5 stelle Mr Beast fa così Ho visto un'intervista Che dice Lui guadagna 4 milioni E 3 9 E li spende in vita Ma sai che Infatti Voglio parlare anche di questa cosa Cioè adesso Mi hai fatto vedere Di questa roba E Ti volevo chiedere Surry Io appunto Ho visto questa intervista Anche io di Mr Beast In cui dice che Mr Beast Fa valanghe di visualizzazione E fa una marea di soldi Ovviamente Perché comunque Sponsor eccetera Fa una marea di soldi Ma il 90% dei soldi A quanto lui dice Quindi ci basiamo Su quello che lui dice Li spende per fare altri video No E Fedez Nella live in cui è venuto con me Ha detto una cosa Molto intelligente Secondo me Ovvero che Mr Beast ha questa cosa qua Di continuare ad alzare L'asticella Di continuare a fare video Sempre più incredibili E Fedez Dice nella mia live Se tu continui ad alzare L'asticella E fare sempre robe più incredibili A un certo punto Doverai trovarti a fare Un video sulla luna No Se no la gente Se comincia Ad abbassare l'asticella A fare video normale La gente dice Che merda Perché sai Se la gente è abituata A sempre il top contenuto Io mi ricordo Quando facevo le live Un anno fa Che c'è stato un periodo C'è stato due settimane In cui ho fatto Delle top live Incredibili Super ospite Live bellissime Ed era Ogni giorno Alzavo sempre più l'asticella Quando anche magari Abbassavo un minimo L'asticella La gente Minchia Che è live di merda Fa un culo Sei morto Fai schifo Io dicevo Minchia ma è bella sta live Ma perché Era abituata la gente A vedere delle live A livello altissimo Però lui ha detto Che solo da youtube Fa tot soldi E li rinveste Magari tutte le sponsor Quelle sedie Ok però Continuiamo Va bene Però contiamo il discorso Che lui Il 90% Dei suoi introiti Generali Li spende Ne altri video E il concetto è Che lui continua A cercare di fare Robe sempre più eclatanti Tu arrivi a un certo punto In cui se continui Finisci Arrivi all'apice Arrivi che Sì sì Che cazzo fai? Va bene ma Cioè C'è sempre qualcosa Di nuovo da fare Qualcosa di più figo Qualcosa di nuovo E ma Cioè Cazzo L'ultimo Cioè Mr Beast ha fatto un video In cui ha fatto Squid Game In vita reale Ha fatto 200 milioni di views Cioè Tu fai un video del genere La gente Il video dopo Si aspetta Cioè capito Una roba Allucinante No? Ma perché È sbagliato Però nella mentalità Della gente Se la gente Vede una roba incredibile La gente vede Una bella live Una live incredibile Il giorno dopo La gente si aspetta Una live ancora più bella Secondo me Questo è un po' Un Come dire Un po' Un artefatto Mentale Di chi produce contenuti Perché chi produce contenuti Cerca sempre Di alzare l'asticella Però dal punto di vista Dell'utente Cioè i commenti Lascia stare su Twitch Perché su Twitch È un po' più Presente la cosa Perché la chat È sempre lì E ci sono messaggi A ripetizione Però metti Prendi caso YouTube Ad esempio Su YouTube Se uno andasse a vedere Quanti commenti Ci sono Sotto il video Di Di MrBeast Dove fa la roba Di Squid Game E andasse a fare Una proporzione Tra quanti sono i commenti E quanti sono le visualizzazioni Sì è vero Che i commenti In un qualche modo Rappresentano Quella che è Diciamo Quello che è L'immaginario Del pubblico Ma non puoi Prendere Una piccola parte Per descrivere Il tutto E se comunque Il contenuto fa le views È vero Magari Il contenuto dopo Ci sarà qualcuno Che si lamenta Ma per forza di cose Non si può Alzare sempre l'asticella O perlomeno Non si può Costantemente Alzare l'asticella Quindi magari Ci saranno Dieci contenuti Che sono comunque Bomba E poi arriverà L'undicesimo Che dici Cazzo guarda L'ha fatto di nuovo Perché è giusto così Ci deve essere Un equilibrio Anche nei contenuti Assicurare che dal punto di vista Del pubblico invece C'è molta meno Diciamo Molto meno esigente Di quel che noi Creatori di contenuti Ci aspettiamo Cioè A molte persone Cioè per molte persone È puro intrattenimento Cioè uno non sa cosa fare Ah ok Prendo la cosa interessante Che mi capita C'è molta meno Diciamo Pressione Ok Poi dovete prendere una sigaretta Tu se vuoi fargli una domanda Intanto fai dela Ok Cazzo Mi ha lasciato da solo bro Che succede Vado a prendere Da bere Ah Sto da solo Ciao Diciamo che Che ne pensate Di questa live ragazzi Tutto bene? Come state? Io Sto leggendo la chat Sono in difficoltà Madonna Bro perché sei andato anche surri Cioè mi ha visto da solo Sì sì è scappato È scappato Ero in difficoltà tantissima Capito? Già ero in difficoltà A fare la domanda Pensa quando lui ha fatto Mi ha guardato E mi ha detto No ha bromenato Ho fatto vabbè Non serva un cazzo Cioè capito? Non avevo cominciato Se ne fosse andato Hai detto Vuoi che c'era una domanda Se non la vuoi fare tu? No no vai 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 Allora Io ho qualcosa Inerente Tipo al fenomeno Logan e Jake Paul Vabbè visto che siamo In tema Chiediglielo Tu hai mai pensato Di spostare il tuo pubblico Al tempo Come Cioè tipo Sullo stile dei video Facciano loro Timing Bro mi sa che ci siamo seduti Nello stesso tempo Sì Grave Tutti stanno spamando timing Grave Mi sa che ci siamo Timing assurdo Timing perfetto Mi sa che ci siamo seduti Nello stesso istante Vabbè Mi uscirà poi la clip Su TikTok immagino Sì sì Robato Dicevi Logan Quando c'era Cioè tu in generale No hai sempre fatto il tuo Oppure hai un pochetto Tipo pensato Di seguire il flow America Cioè quando ai tempi Andavano Jake Paul E Logan Paul Hai tentato di comunque Di portare contenuti simili A quelli che facciano Logan Paul e Jake Paul No perché loro sono Troppo energici Cioè io sono Super tranquillo Nel film Quella roba lì Non riesco A farla Cioè Io di base Cioè Quando urlo Mi stanco Perché non sono abituato A urlare In base Però in generale Tu portavi i viaggi Sì però Cioè Comunque quando uno Crea un contenuto La propria personalità Viene riflessa tanto Nel contenuto In cui crea Logan Jake Si vede Che sono Molto carichi Lo esprimono Proprio All'ennesima potenza Nel montaggio Anche Quindi con questi Zoom Movimenti Caotici I miei video No Cioè Figa Il video che è uscito L'altro giorno Sono io che preparo Il caffè la mattina Per fare la intro Ci metto due minuti A fare il caffè Parlo alla videocamera In palatura fissa Cioè è proprio Un altro È un altro modo Non ci vedrei proprio A fare quella roba Lì no Cazzo c'è da dire che Logan Paul ha fatto Una roba secondo me Incredibile Non so se Tu ti ricordi Anche tu Suri ti ricordi Che Logan Paul Aveva fatto uno scandalo Incredibile Ma in Italia O quello Sì sì No la roba del Giappone E mi ricordo Che io manco Lo conoscevano Non lo conoscevano E mi ricordo Che tutti Odiavano Logan Paul Tutti Cioè perché Aveva fatto una roba pesante C'era stato poco Si era messo a ridere Davanti a un suicidio Una cosa molto grave E quindi aveva fatto Uno scalpore Lui aveva fatto Un video di scuse Tutti nei commenti Vaffanculo Pezzo di merda E lui lì comunque Da lì È esploso È diventato Una roba È riuscito La cosa che mi ha sorpreso È che è riuscito A recuperare incredibilmente E addirittura Logan È un grandissimo esempio Di damage control Dell'immagine pubblica Cioè quali sono Se ci pensate Negli ultimi Dieci anni Le persone Che sono state Cancellate Che sono tornate A me viene in mente Solo Logan Paul In America O in generale In generale Che io conosco È vero che Logan È nella top Diciamo un po' Nell'Olimpo Dei creatori di contenuti Poi con la roba Anche del box E tutto il resto Comunque Ha allargato La propria fanbase In maniera incredibile Anche fuori Dall'America Proprio fisicamente Facendo eventi Di qua di là Però Cioè non conosco Un personaggio Forse per ignoranza mia Che è stato cancellato A quel livello lì In cui davvero Era odiato da tutti E poi Justin Bieber È vero Sì però lì Non è stato cancellato Lì era Lì era Interatissimo Però Esatto Però lì Non è che dice Ha fatto una cazzata a lui Cioè Justin Bieber faceva Le sue cose Cantava E tutti lo Bullizzavano E invece ora È uno dei cantanti Più stimati E tutto il resto Però Che uno è stato cancellato Per una cosa che ha fatto E poi è tornato Anzi Superando il livello precedente Secondo me Forse Forse solo Da quello che era diventato Come chiamolo così Potrebbe essere una parte Della sedia Questa Eh sì Ma perché rompo tutto L'invoteca Sai che mi sa di sì Quella se non sbaglio La vite che c'è Nell'appoggino sotto Che mantiene Il supporto Con il sedile Controlla Allora Fai vedere Aspetta Ah Già non riesco A rimandare indietro Dire che Che Non riesco ad andare indietro Ah no aspetta No 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 E c'è Quello Sì esatto Vabbè A quanto pare Boh abbiamo trovato Una vite per terra Però non sappiamo Che cos'è No ma in realtà Credo sia del Del gatto Allora Non esagerare Top live Gringiato Comunque No Secondo me In realtà Secondo me Io sono convinto Che Surry Non si sia pentito Di aver fatto sta live Secondo me Vedi i propositi Molto più in più Bassi Sì è stata una live Piacevole Senza nessun tipo Di problema Dai Minchia Secondo me Tu avevi dei propositi Secondo me Quando ho toccato Di entrare in live Ho detto Minchia Chissà che cazzo Mi fa fare questo Mi farà fare Delle cringiate Che non voglio fare Sicuro No Tu mi hai chiesto Di fare la roba Lì Della 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 Delle cuffie Quello Cioè Dipende Capito Perché è una roba Che si È divertente Perché diventa buona La prima No Il programma Di Alessazione C'era qualche anno E diventa improvvisazione Però Nel contesto Del meme Quindi sei giustificato A fare Quello che vuoi E quindi Ci sta Io chiedo sempre Che uno vuole fare Perché mi piace Mettere in difficoltà La gente Ma sapendo Fin dove posso arrivare No esatto Sapendo che comunque La gente non soffende E si riempie No ma io quando invito Qualcuno in live Chiedo sempre Che cosa posso fare Anche quando ho invitato Ciccio Anche quando ho invitato Tutte le persone Chiedo sempre La domanda che faccio sempre È c'è qualcosa Che vuoi che non ti chieda Perché se qualcuno Dice guarda Non chiedermi di questo Io non glielo chiedo Anche perché Se no faresti Sono una figura In merda Ma sì Ma esatto Perché non mi va È una cosa che mi sta succedendo Ora quando mi invitano In live Mi invitano Io dico sì va bene E poi Mi mandano Magari È capitato a volte Dei messaggi Dicendo Però in live C'è anche questo C'è anche questa C'è anche questo Non è che hai problemi Con questo Questa Questa Biff Oppure Io volevo chiederti di Lele Volevo chiederti Visto che c'era anche Lele Volevo chiederti di lui Però lui mi fa Che comunque ti conosceva Sì sì No no Ma non per questa live Dico in generale È una roba No ma anche io lo faccio Sì perché ci sono così Tanti dissidi Che non si sanno Magari privati Ma no a volte Capito Poi dipende Che invito Però magari Si so che invito Una persona che Boh magari È un po' particolare Ha avuto magari Mezzi scazzi Dico guarda C'è questo Poi sai di solito Dico C'è Jody Rubino Capito che Nessuno ha problemi Con Jody Rubino Solitamente Quindi Di solito Non ci sono problemi Particolari Che cazzo di gatto Jody no Jody a me Un po' sta sul cazzo È solo questo Eh ma Jody Jody si è sul cazzo a tutti Jody pure Sì no perché Quando andavo in live Da Dario Gli dicevano Che avevo la MVP Allora era un po' geloso Stiamo un po' sul cazzo Eh sì ma Jody Faccio di merda Jody Siete un bastardo Sì sì ma Però stiamo Ma io non ci tempo Te c'hai amico Ma fai finta C'hai amico Beh ovvio Però che ci giovi Ma sì ci giovo Clout Ah beh certo Cazzo me ne frega Ah certo Ma per i gattiri Anche io sarei Anche perché i gattiri Quando chiedo di andare A casa sua Solo per i gatti Non lo guardo neanche in faccia Ti inculi i gatti E te ne vai Non saluto neanche Dico permesso ai gatti Quando entro dico permesso Guardando i gatti Guardi per terra Sì 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 No per me è casa È casa dei Muni e Satoshi Sui gatti Ovviamente Ma crea un cazzo Ognuno vive l'amicizia Come le vive Ci mancherà bella Sì 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 Assolutamente Va bene Surry È stata una live super figa Secondo me è stato Super divertente Interessante Molto interessante Concordo Quando poi la ricaricheranno Su YouTube Bella tagliuzzata E abbiamo parlato Di un sacco di cose Super super fighe Anche secondo me La chat ha apprezzato Perché a me capita Molto spesso Di fare delle live Un pochino più serie Che magari la chat Ottimo e che noia Che noia Invece stavolto Ho visto che la chat Era molto contenta Di questo Ai pava Continuano a scrivere Top live Quindi secondo me La chat è contenta Perché abbiamo parlato Di cose serie Ma di cose comunque Contemporane Che in generale Sono importanti E interessano Abbastanza tutti Quindi Secondo me è stato Molto molto Sono curioso Di vedere la clip Del timing Eh sì anch'io Anch'io Perché sono curioso Bella È vera La mandate Che ce la guardiamo insieme Surry No no Mandatela qua in chat Che ce la guardiamo insieme Con Surry Ah perché c'è già Sì sicuro Se vediamo se i moderatori La mandano C'è sicuro Guarda quanti cuori viola Eccola Stai guardando la live Come Surry No no Adesso te la condivido La condivido Aspetta Ok condividiamo allora Allora Io Stavo leggendo la chat Ehm Sono in difficoltà No Non vedo Bro perché sei andato anche Surry Cioè mi ha visto da sola Ha detto Sì sì è scappato È scappato Vincchia Ero in difficoltà Te l'hai ciso Veramente Era in difficoltà Fai la domanda Pensa quando lui ha fatto Mi ha guardato E mi ha detto No ha bromenato Ho fatto vabbè Sì Io ormai ho provato Di far live C'è qui scopo Un cazzo Nemmeno io Madonna Ma dov'è Surry Ok Surry ce l'ha Lo vedo Ci stai Surry Sì 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 Io Stavo leggendo la chat Ehm Sono in difficoltà Madonna Bro perché sei andato anche Surry Cioè mi ha visto da sola Ha detto Sì ti è scappato Surry Ha scappato Atturdo Tantissimo Oh mio Dio Pensa quando lui ha fatto Mi ha guardato Non l'ho notato No però me ne ha fatto Uguale Uguale Stesso lato Sì 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 Stesso lato Bellissimo Ti sei andato anche Surry Cioè mi ha visto da sola Ha detto Sì No ma Stesso angolo Stesso angolo Bellissimo Il timing mi fa troppo ridere Bellissimo Bellissimo Porca puttana Va bene Surry È stato un piacere averti qua Ci sentiamo magari Altrittanto A Milano insieme Quando vuoi Birra Una birreria Quello che vuoi Ci sentiamo Ci sentiamo comunque Sui social Insomma Cazzo Comunichiamo Poi usare Whatsapp Anche Whatsapp è un social ormai È vero Confermo C'ha le storie È vero Tu le hai mai usate le storie di Whatsapp? Mai Non ma vorrei Non ma vorrei Motivo Allora Fino a Poco fa Poco tempo fa Lo vedevo come La roba che fa mio padre Mio padre mette le storie Le condivide su Whatsapp Perché non vuole mettere le storie Vuole farle vedere solo Ai suoi contatti E quindi la vedevo Una roba Effettivamente da boomer Recentemente Molti dei miei contatti Giovani Anche più giovani di me Hanno iniziato a usarle Perché effettivamente Ci sono delle cose Che magari vuoi condividere Magari non tutti Sono nei cross friends Però ci sono delle cose Che vuoi condividere Con i tuoi contatti Ma non con Instagram Ma non a quel punto Che direi solo i cross friends E quindi C'è una via di mezzo È una via di mezzo Ok È una via di mezzo Vabbè Però vabbè Non so se inizierò davvero Ad usarle Perché mi fa molto Però nei cross friends Ci può mettere qualcuno Che segue su Instagram Comunque con quei rapporti di Instagram Ma non hai il numero Sì Però se sei nei miei cross friends È molto probabile Che io abbia il tuo numero Ok chiaro C'ha ragione Va bene Surry È stato un piacere Averti qua Ci becchiamo alla prossima Vediamo se magari Ti convinco a fare Qualche trollata Qualche tipa Vediamo Sì dipende sempre Dal mondo Però vediamo Vediamo Tu fammi sapere Quando ci voglia Che magari Che magari L'organizziamo So come Avviene qualcosa Di divertente E va bene Ci sentiamo Salvatore Cinquegrana Sì Sono io È lui L'ha letto lì No Dove Sapevi e basta Ex fan Gigantesco No ma Non so come Mi sia venuto No Sì Nel profilo C'è l'hai scritto Nel mio profilo Dove Di Instagram No No Bro lo sai C'è il tuo salvatore Penso Aspetta Non lo so Ma dove cazzo Non mi ricordo Ma ti giuro Ho sparato a caso No Non c'è Lo giuro Su mia madre Morisse ora no Ma lo sai Che anche io Lo sapevo mezzo Cioè Me l'hai ricordato tu Non tuo papà Scherzo L'ho visto Perché sai Volevo vedere Dove arrivare Ma perché Tu fosse mia morta È viva Chi morta Mia madre No no Non l'ho letto In chat comunque Che gag Che fai finta Che è una lega Molto macabra Però comunque Non l'ho letto in chat Te lo giuro Non l'ho letto in chat Mi è venuto Non so Salvatore 5 Non so dove cazzo Sta la memoria fotografica Credo Ci sta Sì È il mio Nome e cognome Va bene Buona serata Signori Buona serata Scriviamo alla prossima Ciao 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 amore mi È tutto un paradosso Sono solo un pazzo Quest'amore so che sparirà Ora non mi muovo Ma nemmeno stacco Canto solo E faccio un naranà Ma non posso fare Pelle cose Sì quelle che dici Ma come possiamo fare Se pensi Sì quelle che dici Sì quelle che dici